C'è l'accordo tra provincia e comune di Bolzano per la realizzazione del tram che collegherà la stazione ferroviaria e Ponte Adige passando per Corso Libertà e l'ospedale. L'infrastruttura sarà costruita da Sta e gestita da Sasa. Circa 13 chilometri e mezzo di elettrodotti della linea aerea di elementazione ad alta tensione tra Marlengo e Tirolo dovrebbero essere trasferiti sottoterra. 50 dei tralicci esistenti saranno smantellati. L'operazione potrebbe avvenire in concomitanza con la realizzazione della Galleria di Monte San Benedetto nell'ambito dei lavori per la circonvalazione nord-ovest di Merano. Giunge a compimento il desiderio espresso da circa 100 comuni altoatesini di ottenere una maggiore partecipazione azionaria in Alperia, società a partecipazione pubblica per la produzione e distribuzione di energia. La Giunta ha infatti approvato l'accessione a Selfin dell'8,07% delle azioni di Alperia. In questo modo i comuni ottengono la maggioranza della società energetica.